E ora festeggiamo un compleanno davvero straordinario, gradito e con grande spirito di festa, davvero. Ci colleghiamo con Andrea Sciarretta perché oggi Noemi ha compiuto i dieci anni, dieci anni di lotta, di battaglia contro questa malattia, contro questa patologia, ma anche dieci anni di lotta e di battaglia per tutti gli altri, per tutti gli utenti della sanità, dei servizi, soprattutto per chi vive il problema delle malattie, il rare, per chi è caregiver. Ecco Andrea, con quale spirito oggi intanto festeggiate la piccola, ormai grande Noemi? Grazie, grazie di cuore a tutti per l'attenzione. È uno spirito meraviglioso, come dico io, perché comunque è un obiettivo importante. Per molti di noi gli anni passano, ma in verità per Noemi, per i bimbi come Noemi, ogni anno è una vittoria. Quindi festeggiamo insieme a tutti voi, tutti i sostenitori, tutte le persone che in questi anni hanno incontrato Noemi, si sono adoperati affinché ci potesse essere un'attenzione concreta e siamo riusciti a raggiungere obiettivi importantissimi e vitali. Tutti, tanti, troppi probabilmente per poter oggi essere ospitati a casa tua a Guardia Greve, dove Noemi sta festeggiando. E per questo, Andrea, noi sfruttiamo questo spazio ancora una volta per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo. Noi di Reteotto ci saremo sicuramente, ma l'invito è veramente che ci siano in tanti per parlare delle battaglie vinte e quelle ancora da vincere. Andrea, che succederà sabato al Teatro Marruccino di Chieti? Assolutamente sì, noi vi aspettiamo davvero numerosi per festeggiare il giorno di Noemi, ma che in verità è il giorno della vita. Sabato 4 giugno alle ore 21, Teatro Marruccino. E' possibile prenotare sui canali progettonoemi.com, trovate tutte le info attraverso Ciao Tickets. Sarà una serata in cui al centro c'è la persona, c'è il bisogno che i bambini come Noemi ci chiedono ormai da anni di poter avere una presa in carico efficace, di poter avere riferimenti sanitari efficaci ed efficienti. Quindi il carico ovviamente della famiglia, il carico assistenziale è molto importante ogni giorno ciò che noi attraversiamo. Quindi dobbiamo cercare di essere un pungolo per ognuno che ha un ruolo, che sia istituzione, che sia comunicatore, ma che riesca davvero ad aiutarci nella presa in carico delle disabilità gravissime. Progetto Noemi è stata promotrice della nascita del primo reparto di terapia subidenziale pediatrica in Azri di Pescara. Siamo riusciti ad avere lo stanziamento delle risorse a favore delle famiglie che come noi assistono ai propri bambini. Quindi ci auguriamo che anche quest'anno, nel 2022, ci sarà il giusto stanziamento economico per farsi carico di queste difficoltà. Noi dobbiamo entrare nella consapevolezza che Noemi siamo tutti, nessuno in modo indistinto tendenzialmente può vivere questa problematica. Quindi ognuno di noi può cercare di avvicinarsi al problema e trovare soluzioni uniti insieme, come sempre abbiamo fatto, senza arrendersi mai, ma soprattutto con lo spirito di collaborazione, di unione, perché Noemi è una bambina fantastica che, seppur immobile, è riuscita a smuovere il mondo. Seppur muove un solo braccio, con quel braccio muove il mondo. Il mondo deve muoversi accanto alle disabilità gravissime pediatriche. Allora Andrea, io ti ringrazio per questo contributo nel nostro telegiornale e ti lascio ai festeggiamenti in questa giornata davvero speciale per te, per tutta la tua famiglia, con un impegno che adesso prenderai. Un grande bacione a Noemi da parte dei telespettatori e di tutti noi di Rete8, tutti coloro che ti stanno e ci stanno guardando in questo momento. Auguri Noemi. Grazie, grazie di cuore. A presto.